Come andiamo ragazzi qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Supercane Magic Zero Siamo arrivati purtroppo all'ultimo episodio, in sostanza la fine effettiva di questa serie Ho appena notato che però i maghi sono girati, se non dico una cavolata, può essere, cioè sto notando che lì è girata Ok no, semplicemente non ci dicono niente di nuovo Nell'episodio di oggi vi voglio dire un paio di cosette extra Allora ovviamente abbiamo fatto tutta la serie e in descrizione vi lascio il link alla playlist Quindi nel caso ve la siate persa potete andare a controllare tutto quanto perché abbiamo fatto grosso modo tutte le cose più importanti Per quanto riguarda invece le cose che mancano, tipo i personaggi da ottenere Vi lascio in descrizione una facilissima guida da seguire per ottenere tutti i personaggi all'interno del gioco Potete trovare anche altre guide all'interno della sezione del forum che vi sto mandando Quindi non preoccupatevi se vi serve qualcos'altro controllato oppure seguite il mio gameplay Perché ho mostrato praticamente come fare tutto E adesso vi faccio vedere un po' una cosa Nell'episodio di oggi vorrei farvi vedere come diventare Sio In sostanza come usare Sio È molto semplice in realtà, potrebbe sembrare più complesso del solito Ma in realtà basta semplicemente fare una cosa A Pop Tarts fuori dall'accademia Cosa succede? Teoricamente devi ricostruire tutti quanti gli edifici Ma ce n'è uno nello specifico che quando lo ricostruisci, ovvero questo Fa comparire lui Fa comparire Sio Che in cambio di un po' di croccantini Viene con noi 500 Ecco qua Che schifo, qua stanno parlando di bere petrolio e altre robe Ok, questo è il nostro nuovo arrivo nella squadra E adesso vi faccio vedere un pochino Il tutto Usiamo Sio stavolta E faremo qualcosa, qualche dungeon per concludere questa serie Quando si conclude questo gioco Dal punto di vista della storia rimangono tantissime cose da fare Non c'è soltanto effettivamente la storia Ma ci sono dei dungeon extra Tante esplorazioni Scoprire tante cose Che magari alla prima run non hai scoperto O semplicemente giocare nella modalità arena Per questioni di praticità Io direi che comunque Chiudiamo con questo episodio Perché comunque Potremmo farne tanti tantissimi altri Ma non c'è bisogno Adesso andiamo immediatamente ad usare Per la primissima volta Sio E vediamo un po' che feature ha In più all'interno di questo gioco Durante la mia esplorazione Ho beccato tantissimi personaggi Come potete vedere Tra cui Nonno Lasere Evelino Sio Dottoros Cook Coso Cosa Ce l'avevamo già E quindi Tra cui anche per esempio Non riesco a leggere bene Perché comunque c'è il simbolo Rack Mi pare sia soffocchia Se una cosa del genere Adesso mettiamo Sio Che ha vita poca Tanto mana Tanto attacco Tanto ego E tanto lancio Aumenta il danno del gruppo In base a quanti giocatori ci sono Chiama una pioggia di deliziose Noci Ok andiamo immediatamente Ad usare Sio Sono curiosissimo Non so voi Ma voglio assolutamente vedere Come funziona questo personaggio Allora ho notato che comunque L'inventario Rimane Invariato Ma semplicemente L'equipaggiamento Cambia Nel senso L'equipaggiamento addosso Non rimane appunto Addosso Quindi dovrei rientrare E togliere il personaggio Al personaggio mio Tutte le abilità Voglio vedere qua Allora le skill Invece rimangono Perfettamente uguali Qua abbiamo anche fumetto Tricante mancherebbe l'ultimo Per dire Cioè pensate Quanto deve essere lungo Sto gioco E ne ho ancora 10 disponibili Ma comunque adesso Voglio un po' vedere Sio ha tantissimo mana Voglio vedere l'abilità Oh mio dio E' tipo leggermente OP questo Oh mio dio Oh mio dio OP a schifo Tra l'altro le noci rimangono Oddio Oh mio dio Puoi tirare un botto di roba Ma quanto è malata Come cosa No vabbè Io lo sto già adorando Sto personaggio Ragazzi Tanti mi piace Persio E soprattutto Acipigna nei commenti Perché sto gameplay E' stata una figata Adesso cambio l'equipaggiamento E facciamo Il mio personaggio principale E facciamo Una cosa Fichissima Ovvero Andiamo a fare il dungeon Che vi ho promesso Ok Facciamo questo Non è propriamente un dungeon Ma è comunque un puzzle Abbastanza interessante A mio parere Quindi Tuffiamoci immediatamente Nel fare questo Allora Sto usando Sio Come state vedendo Gli ho messo finalmente L'equipaggiamento Però mi sono dimenticato Di una cosetta Cioè che quando vado A Mettere le mutande Del nonno laser Mi cambia la skin E mi mette quest'altra Non che mi lamento Non posso di certo Lamentarmi Perché comunque E' un'ottima abilità Tra l'altro Ripeto Se mi vedete camminare Sull'acqua Non sono diventato Gesù Seppur i capelli Siano quelli Ma Semplicemente E' una passiva Che mi permette Di camminare Sull'acqua Per un bel po' Di secondi Mi pare 12 O 15 Comunque veramente Tanti secondi Tra l'altro Penso che sia una Delle passive Più utili del gioco Per quando si tratta Di trasportare strumenti Oltre che trasportarli Comunque Proprio farli arrivare Da altre parti della mappa Perché solitamente Quando tu trasporti Oggetti tipo questo Verde Via dicendo Servono per appunto Andare a fare dei puzzle Una volta finito il gioco Ho visto che è pieno Di questi puzzle Ma soprattutto È pieno di dungeon Che ti permettono Di fare questo genere di puzzle Tipo tu finisci tutto il dungeon Arrivi alla fine Metti questo E c'è una ricompensa sostanziosa Perché vi sto facendo vedere Però questo Nello specifico Perché a mio parere Penso che questo Sia uno Dei più semplici In assoluto Per fare l'equipaggiamento Migliore del gioco Adesso vi faccio un po' vedere Ovviamente non ho studiato Tutte quante le possibilità Di drop E via dicendo Dei vari punti Della mappa Dei vari punti Dei dungeon Eccetera Magari trovando un dungeon Più figo Un po' più difficile Di da qualcosa di migliore Ma ho notato che i drop Sono francamente sistemati In base In base Il tuo livello Cioè in sostanza Roba di livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 La droppi salendo di livello Tipo io ora sono al 55 E droppo roba di livello 5 E di livello 6 Non so se avete capito Cosa intendo Ma penso proprio di si Perché è una cosa Abbastanza semplice Comunque prendere L'ultimo pezzo rosso È veramente la parte Più rognosa Perché bisogna fare il giro 8500 volte Perché bisogna fare un bel po' Di cosette Tipo Bisogna innanzitutto andare di là Oh ho sbagliato io giro Adesso lo faccio Allora minestronia È però È accessibilissima È questo il punto Io faccio vedere Sempre questo Faccio vedere Minestronia Tra l'altro 50 Cioè È la mia impressione È tantissimo 50 Cioè mi ricordo Che facevamo 24 Ma lasciamo perdere Minestronia È il dungeon più semplice Secondo me Dungeon tra virgolette Tra tante virgolette Chiamiamo puzzle e basta Perché semplicemente Tu arrivi e lo puoi già fare Certo Ti serve la molla Quindi ricordatevi sempre Bisogna avere la molla Per fare questo genere Di puzzle E farli al 100% Se no non potete La molla La si ottiene in fumetteria Ristorando la fumetteria Quindi Andiamo alla grande Allora vediamo un po' Se non mi ricordo male Dobbiamo fare il giro da questa Saliamo qua Ogni totto È importante risalire Perché purtroppo Non è eterno Tutto questo Effettivamente Prendere il pezzo rosso È un po' La parte più rognosa Adesso è scattato il meccanismo Il meccanismo dove eravamo prima Adesso ve lo faccio vedere Ho già fatto vedere questa cosa In un altro video Ma purtroppo Una certa è crashata Non è crashato il gioco Ma è crashato il respawn Quindi ero totalmente fregato Sotto ogni punto di vista Ok premuto anche questa Premuta anche questa leva Adesso ci smuoviamo un po' Verso il meccanismo Che abbiamo aperto E tra l'altro Raga Sono veramente contento Di aver giocato questo gioco E sto pensando seriamente Anche di fare un video Approfondimento Per discuterne Insieme a voi E dirvi onestamente Cosa ne penso Perché questo è uno dei giochi Più sorprendenti Di quest'anno Nel senso che Pensavo fosse una porcheria Ma in realtà Per il prezzo che costa Io sono molto molto soddisfatto Nel senso 25 barra 30 euro Sono tanti E su questo non ci piove Ma ho notato Che comunque questo gioco Ti garantisce un bel po' di ore di gioco Cioè alla fine Non dobbiamo pensarlo In che modo sia fatta la grafica Perché francamente La grafica Sì È importante Ma fino a un certo punto Di vista Qua il gameplay è solido Purtroppo sono caduto Rifaccio il percorso Qua il gameplay è veramente solido E mi ha sorpreso come poche cose Poi vabbè Ho fatto tanti episodi Su questo gioco Mi pare che adesso Questo sia l'undicesimo Ma ho fatto anche un dodicesimo episodio Che in realtà Era l'episodio 0 Di un'altra serie Dove proviamo i giochi Su Nintendo Switch Si chiama Proviamolo su Nintendo Switch Molti di voi già la conosceranno Perché la seguono E francamente Io sono Ma vi dirò Molto soddisfatto Di come ho avuto modo Di provare questo gioco Cioè L'ho provato quasi per caso Anzi Neanche per caso L'ho provato per caso Non pensavo che interessasse così tanto Ma A molti di voi È piaciuto talmente tanto Che avete voluto Un seguito E sono francamente Molto soddisfatto Di come è proseguito Adesso Andiamo a mettere Immediatamente Qua L'ultimo Lo andiamo a mettere E lo piazziamo qua sopra Che sarebbe Trogicamente il rosso Ecco qua Ricordatevi sempre Che state usando questo bonus Questa abilità Di poter camminare sull'acqua Che Non è per sempre Ok Cosa succede Praticamente qua Spawnano i mob Ogni tot Ok Prendiamolo Ok Perfetto Arrivata anche la cometa A me non importa di morire Perché sono in modalità rilassata Quindi ho le vite infinite Semplicemente Eccoli qua Questi sono i più cattivi Sono semplicemente i più malvagi Questa Roba gialla Che mi circonda È semplicemente La mia abilità Che fa danno Le persone che rimangono Ai nemici Che rimangono Nei dintorni miei Semplicemente Ok Adesso li otteniamo addosso No l'ho mancato Cioè non è che l'ho mancato Ha fatto lo swoosh E qua abbiamo il primo forziere Ecco qua La cosa figa è che non ti dà soltanto un forziere Ma te ne dà diversi Adesso gli tiro qualcosa Vabbè ancora invulnerabile O meglio Era invulnerabile Adesso dovrebbe respawnare qualcos'altro Non ce n'è ancora uno Per fortuna Sio ha veramente tantissimo mana Come personaggio Veramente ma veramente tanto Cioè non me ne aspettavo Che ne avesse così tanto Ecco qua Aspetta Sbattiamo via questo Bam Ok Manca pochissimo A mandarlo capò Questo qua Aspè ma ha recuperato la vita Ok Buttato giù Adesso dovrebbero arrivare Quelli grossi Eccoli lì O meglio Quello grosso Eh ma sono tutti pericolosi questi Ma tutti Dal primo all'ultimo Ok andiamo capò Ha il problema Di fantasmini Questi piccolini È che si curano Vicenda Cioè praticamente Sentono soltanto Questo di danno Ok Siamo saliti di livello Quindi è stata una bella fortuna Perché adesso abbiamo Un nuovo il mana La cosa fighissima Della modalità rilassata È che non ti devi preoccupare Delle vite Perché sono infinite Il problema Il problema di questo mob È che Spawna Colleghi Colleghi che però Non hanno effettivamente Una vita E qua Ci dovrebbe droppare Il baule Dovrebbe essere questo Il baule figo Che ti droppa le cose Super gigarare Eccolo qua Il drop raro Sigillo del muffin dorato Mana più 180 Ego più 120 Rec mana più 30 Difesa energia Meteora Fuoco Adesso lo equipaggiamo Dovrebbe essere tipo Ecco qua Come vedete abbiamo Praticamente Tutta la parte di sotto Del personaggio Con la rarità Leggendaria Quindi Siamo proprio Al massimo Sono curiosissimo Di vedere un attimo Questa abilità Aspetta vediamo se Ok no Semplicemente Quella di Sio Quindi La sua La roba che c'è scritto lì Meteora di fuoco Penso sia Una cosa a parte Meteori di fuoco Che sia una cosa a parte Come immaginavo E niente raga Questo era Il metodo Per farti Per farvi un equipaggiamento Fighissimo Usando Sio Quindi siamo diventati A tutti gli effetti Sio per questo episodio Vi ringrazio per la visione Di questo video Come di tutto quanto Il gameplay Nel caso vi sia stato utile Anche soltanto una volta Ricordatevi di lasciare Un bel mi piace Se vi è piaciuto Questo gameplay in generale Di cui vi lascio La playlist in descrizione In descrizione trovate Anche tutti i miei social Ovviamente anche Telegram Dove spesso A tema Nintendo Switch Faccio offerte Perché il mio canale Ovviamente è basato Su questa console Detto questo Io vi ringrazio nuovamente Per la visione E vi aspetto In un prossimo video Sul mio canale Magari il video analisi Dedicato a questo gioco Non mancate assolutamente Alla prossima Alla prossima